L'unico modo che conosco per reagire a questa campagna diffamatoria nei confronti del Movimento 5 Stelle è parlare dei nostri risultati. Qui nessuno parla dei successi che ha ottenuto il Movimento 5 Stelle e delle cose fatte. Ogni piccolo errore diventa una cosa enorme quando riguarda il Movimento 5 Stelle e allora noi dobbiamo far diventare enormi i successi che abbiamo ottenuto perché tali sono. Domani faremo due iniziative importantissime per mettere in risalto tutto quello che abbiamo fatto in questi anni. Uno, faremo una conferenza di presentazione del sito internet dei comuni del Movimento 5 Stelle. I comuni governati dal Movimento 5 Stelle avranno un sito dedicato su cui saranno caricati tutti i risultati e domani presenteremo questo sito a Roma con Filippo Nogarin, sindaco di Livorno, Federico Piccitto, sindaco di Ragusa, Chiara Appendino, sindaco di Torino e Virginia Raggi, sindaco di Roma. Sono le quattro città più grandi che governiamo. Domani sera invece ci vediamo a Castel Gandolfo dove farò una diretta televisiva insieme a tutti i cittadini che vorranno seguirci da una piccola e media impresa che è nata grazie ai soldi restituiti dagli stipendi dei parlamentari del Movimento 5 Stelle. E non sono spiccioli, 20 milioni di euro abbiamo tagliato in quattro anni circa dallo stipendio di 130 parlamentari del Movimento 5 Stelle. Sono nate circa 4 mila imprese che danno lavoro a 10 mila italiani e questo domani sera lo faremo conoscere a tutto il mondo. Inoltre oggi ho incontrato qui nel mio ufficio il presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti a cui io ieri ho chiesto di chiedere scusa a nome dei giornalisti italiani che hanno diffamato il Movimento con la vergognosa bolla inesistente delle polizze su Virginia Raggi. Ma in generale hanno fatto passare il Movimento come un movimento che prendeva soldi, che rubava soldi. Noi non abbiamo mai rubato un euro a nessuno. Oggi l'ho incontrato qui perché il presidente Jacopino ieri aveva scritto un comunicato dicendo voi segnalatemi i casi particolari senza generalizzare. E io ho consegnato una lettera in cui ci sono tutti i casi particolari in cui si è parlato di voto di scambio, si è parlato di voti pilotati, di soldi che si facevano girare sulle polizze vita e che avrebbero preso il Movimento o che avrebbero preso esponenti del Movimento. Questi casi li ho segnalati al presidente dell'Ordine e gli ho chiesto ovviamente di affrontare la questione perché non è etico, non è deontologico, non è corretto scrivere menzogne. Questo fine settimana invece andrò in Sicilia, venerdì e sabato. Sabato mattina faremo un evento che si chiama E-Day, che sarà il primo di tanti eventi durante il prossimo anno in cui presenteremo il nostro programma e le nostre intenzioni per cambiare la Sicilia. Oggi c'è un sondaggio che ci dà quasi al 40% per le prossime elezioni regionali. Non so se sia vero, potrebbe essere anche di più, ma di certo siamo gli unici che possono presentare una proposta credibile per cambiare quella regione che è una delle regioni peggio messe d'Italia. E lo possiamo fare perché ne abbiamo la credibilità, perché con i successi che abbiamo portato a casa in questi anni, con i cambiamenti che abbiamo ottenuto nei singoli comuni, penso per esempio al reddito di cittadinanza comunale a Livorno, al nuovo sistema dei trasporti a Ragusa, penso al fatto che a Roma abbiamo approvato per primi il bilancio di tutte le grandi città e per questo abbiamo ottenuto dei bonus, 11 milioni di euro. A Torino da oggi è stata annunciata la campagna di Chiara Appendino per obliterare obbligatoriamente il biglietto quando si utilizza un mezzo pubblico. Ci sono una serie di piccole cose che stiamo facendo che vogliamo riportare in grande quando andremo al governo del Paese. Stateci dietro, ci vediamo domani sera a Castel Gandolfo per presentare a tutta Italia e a tutto il mondo un'impresa che è nata grazie a un politico che si è tagliato lo stipendio, un parlamentare del Movimento 5 Stelle.